Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 88esima puntata del podcast di Marcos Box. Apriamo questa puntata con un'altra triste notizia che riguarda Mozilla. Sapete bene che Mozilla non se la sta passando affatto bene dal punto di vista finanziario, tant'è vero che lo scorso mese di agosto ha iniziato ad avviare una fase di ristrutturazione interna che sta comportando enormi sacrifici dal punto di vista umano, perché sono stati licenziati quasi 250 dipendenti, che è quasi un quarto della forza lavoro dei lavoratori a tempo pieno dei progetti di Mozilla. Oltre a questo ha iniziato a tagliare i cosiddetti rami secchi, quindi ha iniziato a dismettere tutti quanti i servizi non remunerativi per concentrarsi appunto soltanto su quelli che possono portare un guadagno, tipo il browser Mozilla o ad esempio la VPN che è stata recentemente lanciata negli Stati Uniti. Oltre a questo sta anche adoperando dettagli per quanto riguarda, diciamo così, le varie sedi. Ad esempio, notizia di proprio qualche giorno fa della decisione da parte di Mozilla di non rinnovare il contratto d'affitto in scadenza a gennaio 2021 della sede di Mountain View, quindi Mozilla saluta definitivamente anche il quartiere generale di Mountain View. Affanere spese, dicevamo in questo caso, adesso, è un servizio, un servizio davvero interessante di Mozilla, un progetto interessante che, parlando poi con i lettori di Marcos Box sul canale Telegram, era anche utilizzato da alcuni, quindi non era un perfetto sconosciuto. Il progetto in questione si chiama Mozilla IoT WebThings Gateway, che è un progetto open source lanciato da Mozilla, rivolto alla standardizzazione e l'integrazione dei diversi componenti IoT. Appunto a causa di questa ristrutturazione che Mozilla avviata ad agosto, questo progetto verrà dismesso. Fortunatamente però, non tutto è perduto, in quanto diventerà un progetto indipendente e open source. Nell'ambito della transizione, il servizio di accesso remoto Mozilla IoT e gli aggiornamenti automatici del software verranno interrotti a partire dal 31 dicembre del 2020, per essere poi sostituiti da servizi gestiti dalla community di WebThings.io. Se avete un WebThings Gateway di Mozilla esistente con la versione 0.12, riceverete a breve un aggiornamento automatico e vedete apparire un banner nella parte superiore dell'interfaccia web del Gateway che spiega le scelte a disposizione per i nuovi servizi gestiti dalla comunità e spiega cosa fare nel caso in cui decidessimo di accedere al nuovo sottodominio perché praticamente il sottodominio mozilla.iot.org verrà sostituito con un sottodominio webthings.io. È davvero una notizia triste e speriamo che questo progetto, adesso che è slegato da Mozilla, possa ricevere finanziamenti, possa iniziare a correre più veloce e possa iniziare ad affermarsi ancora di più. Passiamo adesso a una bruttissima notizia dal mondo delle distribuzioni di Linux, una notizia che ha fatto ragerare il sangue dei sistemisti di mezzo mondo. Il team di CentOS ha deciso che dal prossimo anno concentrerà i propri sforzi soltanto su CentOS Stream. CentOS Stream che cos'è? È una rolling release di CentOS che è stata annunciata a settembre del 2019 che praticamente si pone a metà strada tra Red Hat Enterprise Linux e Fedora Linux. La particolarità di CentOS è che è una rolling release che riceve un flusso continuo di aggiornamenti, con anche più aggiornamenti al giorno, che comprendono tutte quante le ultime modifiche al codice base di Red Hat Enterprise Linux. Il progetto CentOS Stream si ricolloca tra Fedora Project e Red Hat Enterprise Linux e di fatto va a fornire un'anteprima continua di tutti quanti i futuri kernel e funzionalità che vedremo a prodare su Red Hat Enterprise Linux. Ora capite bene dove nasce il problema, dove nasce la paura, dove nasce il terrore negli occhi dei sistemisti. Fino adesso i relaci di CentOS erano legati ai relaci di Red Hat Enterprise Linux. Quindi ad ogni rilascio di Red Hat Enterprise Linux seguiva un rilascio di CentOS. Nel corso degli anni CentOS si è affermata con le distribuzioni in abito server perché di fatto è una Red Hat Enterprise Linux, garantisce la compatibilità binaria con Red Hat Enterprise Linux e ha il vantaggio di essere gratuita, quindi di essere slegata dal supporto a pagamento di Red Hat Enterprise Linux. Questo ha fatto sì che i sistemisti di mezzo mondo iniziassero ad utilizzare, iniziassero ad apprezzare perché il sistemista vero sa dove mettere le mani, sa anche magari dove andare a chiedere, non necessita di un supporto a pagamento e quindi aver trovato la pace dei sensi con CentOS. Pace dei sensi che adesso va letteralmente a farsi fottere perché di fatto... Cioè adesso vi immaginate adesso un qualsiasi sistemista che dice capo perché non mettiamo una distribuzione rolling release sui nostri server? Sarebbe da folli, sarebbe da matti, sarebbe da incoscienti. Sui server si utilizzano da sempre soluzioni stabili, testate e a contempo stesso sicure. Nessuno avrebbe mai in mente di mettere una rolling release su un server. Di fatto le distribuzioni server più apprezzate sono appunto le ETS di Canonical, sono le varie dizioni di Debian perché Debian è stabile per natura ed era appunto fino adesso CentOS. Che cosa accadrà adesso? Che cosa succederà? Beh, succederà che o i sistemisti migreranno ad altre distribuzioni o si dovranno affidare il supporto a pagamento di Red Hat Enterprise Linux perché hanno fatto sapere quelli di CentOS che il supporto a CentOS Linux 8 terminerà nel 2021, quindi verrà dismesso. Chi ha una vecchia installazione di CentOS Linux 7 e che non ha ancora migrato alla versione 8 potrà dormire a sonni tranquilli almeno fino al 2024 perché CentOS Linux 7 continuerà a essere supportata per il resto del ciclo di vita di Red Hat Enterprise Linux 7 ma dopo dovrà il sistemista di Tuneo dovrà decidere che cosa fare, a quale migrare se migrare la soluzione a pagamento di Red Hat o se migrare verso altre soluzioni. Questa brutta vicenda informatica sta rievocando nella mente degli utenti più anziani la vecchissima strategia degli abbracci e stendistingui che è stata utilizzata negli anni 90 dalla Microsoft e che adesso è stata utilizzata dai nostri stessi amici di Red Hat che di fatto hanno prima adottato CentOS per portare adesso alla sua estinzione e triste da dire però è quello che è accaduto. Comunque fortunatamente non tutto è perduto perché il cofondatore di Red Hat Enterprise Linux Gregory Kutzer ha deciso di avviare un nuovo progetto chiamato Roxy Linux che altro non è che è un sistema operativo comunitario aziendale progettato per essere compatibile al 100% bank per bag con Red Hat Enterprise Linux e che di fatto sarà la nuova CentOS quindi ricomincerà da dove è partito anni fa con un nuovo progetto e con una nuova distribuzione che verrà rilasciata dopo le versioni stabili di Red Hat Enterprise Linux così come è sempre stato e quindi non come purtroppo adesso si è appresta a diventare CentOS una distribuzione che viene prima di Red Hat Enterprise Linux. Ogni fortuna a questo progetto gli auguro. Attualmente la pagina GitHub ospita soltanto i file Redmi comunque Gregory Kutzer avrà di sicuro riuscirà di sicuro a portare dalla sua parte numerosi sviluppatori che si sono già resi disponibili a contribuire e Gregory avrà anche fatto sapere che dovrebbe riuscire anche a garantire l'assunzione di programmatori a tempo pieno quindi potrà anche pagarli quindi si spera che il progetto Rock Linux inizi a dare i suoi frutti già nel breve periodo e che sia indipendente dal punto di vista finanziario. Dopo tanta tristezza passiamo adesso a una notizia allegra dal mondo delle distribuzioni Linux. Una notizia interessante che riguarda Elementari OS che nella versione 6.0 introduca il supporto multi-touch dei gesti praticamente come accade su Mac OS e sui sistemi operativi più avanzati in presenza di un touchpad sarà possibile mediante alcuni gesti preimpostati attivare alcune funzionalità come il cambio dell'area di lavoro il cambio della scrivania virtuale e quant'altro. Questa nuova funzionalità è in via di arrivo, di approdo su Elementari OS 6.0 il cui rilascio non ci è ancora dato di sapere però comunque arriverà quando sarà pronta ed è davvero interessante perché va a sopperire una grave mancanza dei sistemi operativi Linux o meglio delle principali desktop environment Linux. Su Marcosbox trovate comunque maggior informazione a riguardo con una serie di animazioni che fanno vedere tutti quanti i progressi fino ad ora compiuti. Chiudiamo questa puntata con una buona notizia per tutti quanti i videogiocatori all'ascolto. Cyberpunk 2077 potrà essere giocato su Linux nativamente grazie a Proton perché è stata rilasciata da poche ore la versione 5.13-4 di Proton che va ad aggiungere la compatibilità con Cyberpunk 2077. Come requisito viene richiesto una GPU M di Radeon e l'utilizzo dell'ultima versione di Mesa compilata da Git. Se avete una scheda video Nvidia non dovete preoccuparvi perché con i driver proprietari potete giocarci fin da subito sempre grazie a Proton a darne dimostrazione di questo pensato Martin Winpress che ha fatto un video dove mostra in esecuzione Cyberpunk 2077 su Ubuntu 20.04. Per quanto riguarda gli utenti di Manjaro il team di Manjaro ha fatto sempre che sta lavorando per offrire il supporto Out of the Box a Cyberpunk 2077 direttamente sulle prossime minor release di Manjaro. Comunque sul form di Manjaro è stata aperta una discussione che spiega come installare l'ultima versione di Mesa da Git al fine di poter sfruttare l'ultima versione di Proton per far girare Cyberpunk 2077. Buone cose quindi per tutti quanti gli utenti Linux all'ascolto. Bene, con questa ultima notizia si conclude qui questa 88esima puntata del podcast di Marcos Box. Che dire, gunga vita e prosperità a tutti quanti ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast. Ciao ciao.